bella ragazzi qui raptor e oggi sono qui su black ops 3 a farvi vedere un po delle mie classiche uso sull'online ho voluto variare un po il genere di video proprio perché non mi sembra che finora ho provato a fare questo tipo di video in cui vi faccio vedere le classi che uso sul mio account e non sono ragazzi le classi come fanno alcuni youtuber che fanno vedere le classi più forti del gioco o le armi più forti del gioco ma sono soltanto delle classi in cui vi faccio vedere che tipo di accessori uso su quando gioco online le partite normali dominio dead match guerra terrestre battaglia terrestre come in caso si chiama e cose così solo per farvi vedere che tipo di classi che uso così che possiamo confrontarci ad esempio se magari uno sulla kn usa fuoco rapido io non mi piace tenere fuoco rapido e preferisco calcio calcio regolabile quelle robe lì comunque si ragazzi partiamo con la prima che è un xr2 e mi sono equipaggiato l'ole perché al mirino con cui mi trovo meglio infatti su tutte le otto classi che ho sbloccato ce l'ho quasi su tutte a parte una o due armi che ancora devo sbloccarlo perché l'ho prestigiata e logicamente sapete anche voi che se prestigiate l'arma vi resetta tutto comunque raga uso l'ole estrazione rapida caricatore aumentato e calcio ho fatto questo mix di accessori qui perché fino adesso giocando a dominio standard perché a veterano ci gioco proprio raramente è l'unico mix di accessori che riesco a trovarmi veramente bene e che sciotto anche abbastanza perché io purtroppo per via del joystick della ps4 che non mi riesco a trovare proprio benissimo è l'unico tipo di accessorio che riesco a usare sulle armi a 3-4 colpi perché mi ci trovo abbastanza bene diciamo poi vabbè uso la granata perché io sono sempre stato un lanciatore nato di granate proprio appena inizio a giocare come sapete se seguete i video e i bonus sono quasi sempre gli stessi da quando ho preso le cuffie quindi percezione ambientale prestigiatore e anti schegge che secondo me sono uno dei migliori se si gioca a dominio standard poi m8 ragazzi perché l'm8 secondo me è una delle armi a raffiche più forti del gioco su black ops 3 sempre con una beh qui c'ho il mirino reflex ragazzi perché non l'ho ancora sbloccato purtroppo perché l'm8 è stata un'arma che ho iniziato a usare tardi su black ops 3 e estrazione rapida e calcio secondo me basta così senza aggiungere altro proprio perché io questa classe qui preferisco usare diciamo maschera tattica insieme a percezione ambientale proprio perché se per caso mi accecano mi stordiscono è un'arma che non riesco a usare benissimo alle distanze ravvicinate quindi se per caso mi accecano ho la possibilità di killare se no no poi beh ho aggiunto la pistola proprio perché se per caso ben appunto se mi trovo un nemico vicino preferisco andare di pistola che di m8 proprio perché preferisco usare armi diciamo che riesco non so come spiegare io nelle distanze ravvicinate preferisco un'arma che posso diciamo avere un po più di mobilità ecco diciamo così poi raga il cuda il cuda l'ho iniziato usare non da tanto da un paio di settimane ma penso che sia una delle armi più forti del gioco proprio perché faccio stragi sia su dominio in combine che in infection a distanza anche abbastanza lontane avendo questi quattro accessori qua ho l'estrazione rapida calcio e caricatori rapidi secondo me è un'arma veramente forte ma forte ma forte come accessori sempre anti scheggio prestigiatore e accessori come bonus anti scheggio prestigiatore e sempre percezione ambientale perché ho le cuffie ma poi raga se qualcuno non ha le cuffie che preferisce come tanti miei amici a sentire l'audio dalla televisione può benissimo usare spericolato o maschera tattica oppure anche propulsione furtiva se per caso ci accontro dei giocatori forti con le cuffie che sentono quando fai salti diciamo anche quello lì è un'altra opzione se no se per caso qualcuno non vuole usare anti scheggio vuole usare fantasma o post bruggiatore perché c'è lo scaf per dire vuole saltare senza farsi sentire c'è anche quello come come opzione poi ragazzi kn kn io penso che sia l'arma che ho usato di più da quando ho il gioco perché è un'arma diciamo che ammazza in qualunque maniera che sei lontano che sei a media distanza che sei vicino è un'arma che se la sai usare abbastanza bene non serve saperla usare al top è un'arma che la se la sai usare decentemente ammazza non c'è un cazzo da fare e mi sembra che c'ho tre o quattro classi della kn comunque questa qui è equipaggiata con caricatore aumentato estrazione rapida e fuoco rapido qui ragazzi ho voluto mettere questi tre accessori qui perché è la classe che uso per quando faccio battaglia terrestre che è una classe per fare le triple diciamo se trovi tre o quattro nemici su una bandiera che hai equipaggiato questi accessori qui ce la fai perché hai fuoco rapido in modo che riesci a killarli un po prima caricatore aumentato proprio perché hai la possibilità di sparare più colpi se per caso ci sono tanti nemici e estrazione rapida proprio perché fa in tempo a mirare prima che mirano loro se hai un po di reattività e antischage fantasma e percezione ambientale sono dei bonus che ci trovo abbastanza bene poi l'xm 53 l'ho messo ragazzi perché prima di tutto mi paro il culo dagli uav e contro uav o sennò il talon tutte quelle merda lì che possono rompere i coglioni se per caso sei in serie e secondo perché sto facendo le sfide per il road to dark matter e quindi devo portarmi avanti un po con tutto qui ragazzi sempre kn fuoco rapido estrazione rapida caricatore aumentato e silenziatore che penso che sia la classe che uso di più in questo periodo proprio perché è una classe ragazzi diciamo che posso andare dietro allo spawn senza farmi beccare proprio perché oramai ragazzi i nemici sono sempre attaccati dietro al radar e io avere silenziatore sull'arma penso che sia uno dei vantaggi più grandi che ci sono l'unica pecca che c'è su black ops 3 ragazzi rispetto a tutti gli altri giochi che qui se hai quattro accessori sull'arma puoi mettere soltanto un bonus e basta e mettendo la granata perché io uso la granata e mettendo lanciarazzi tra tutti i bonus che c'erano da scegliere io preferisco tenere percezione ambientale proprio perché almeno usando le cuffie riesco a sentire bene i nemici poi logicamente che se uno non ha le cuffie come dicevo prima vuole usare questi quattro accessori qui che sono una bomba e vuole togliere percezione ambientale mettere fantasma o antischage può benissimo farlo ripeto queste qui sono solo classiche mi ci trovo bene io niente di più poi ragazzi qui kn sempre però qui ragazzi lo uso col mirino perché mi va a periodi ci sono delle volte che il kn lo preferisco usare senza al mirino e mettere un po più di accessori e delle volte che se non ho il mirino sono un senza mani che non riesco a giocare e l'ho fatta ieri questa classe qui ho messo l'ole estrazione rapida caricatore aumentato e calcio e questa classe qui ragazzi l'ho preso da un mio amico che usa quasi sempre il kn me l'ha consigliata a lui proprio perché vedevo che ogni partita cazzo andava benissimo e l'ho provata anch'io e veramente forte come arma poi vabbia come secondaria io ho messo il lanciamissili però ripeto ognuno può usare benissimo quello che vuole non c'è nessun problema e di bonus antischage prestigiatore e maschera tattica che secondo me va a top con questa classe anche se non ho messo quello per sentire i passi però maschera tattica ragazzi serve soprattutto se si usa su combine infatti io questa classe qui la uso quasi solitamente su combine o su firing range che secondo me è adattissima ragazzi xr2 qui l'ho riempita di accessori proprio perché era la classe che stavo usando ieri per il robot dark matter per finire le sfide infatti se non mi sbaglio il prossimo video che uscirà sarà su questa classe qui in cui farò vedere che sblocco la mimetica oro perché mi mancavano solo 30 uccisioni con i cinque accessori col col mirino e estrazione rapida calcio fuoco rapido caricatore aumentato e canna lunga come vedete altri bonus non ce n'è perché con gli accessori e con i tre wild card vado a riempire tutto e non ci sta più niente comunque questa qui non è una classe consigliata è solo per farvi vedere diciamo che tipo di accessori metto quando vado a fare la mimetica oro sui fucili d'assalto e solo questo e poi ragazzi un colpo di scena che non tutti sapranno però io ho iniziato a usarla da due giorni e mi ci trovo veramente ma veramente ma veramente bene è l'hvk 30 ragazzi che mezza italia la sottovaluta come arma perché ieri un mio amico mi ha detto non mettere l'hvk perché è una merda non riesce a killare non riesce a fare un cazzo è vero ragazzi allora se hai l'hvk e ce l'hai affanculo sbagliato a schiacciare adesso non mi ricordo più gli accessori vabbè li avete visti prima comunque sia basta basta che mandate indietro il video se avete l'hvk e ce l'avete a livello basso allora ok non è che killa proprio proprio bene 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 però ragazzi se ce l'avete diciamo a livello 30 o cose così che volete provare l'hvk in una maniera un po più decente equipaggiandogli qualche accessorio se lo mettete così adesso non mi ricordo se li ho messi giusti come erano prima però mi sembra che era una roba del genere io l'ho equipaggiato con l'ole che come vi ho detto prima è il merino più forte che c'è secondo me estrazione rapida calcio e caricatore aumentato ragazzi io senza le ricompense che adesso vi faccio vedere che non ne ho perché sto usando da un bel po' uav contro uav e hater proprio perché volevo provare a fare qualche nucleare in questi giorni solo con questi con queste ricompense qua che non killano riesco a finire la partita con 40 50 kill senza avere ricompense uccisioni quindi vuol dire che secondo me è un'arma da non sottovalutare a parere mio e niente come bonus uso sempre antischegge prestigiatore e percezione ambientale perché secondo me equipaggiati insieme sia con i fucili d'assalto che con le mitragliette sono il top del top da usare a parere mio tanto ragazzi non c'è bisogno di preoccupazioni con fantasma perché se si vuole si equipaggia all xm 53 oppure al black shell e in un attimo si butta giù tutto lì non c'è nessun problema ragazzi queste qui erano un 50 per cento delle classi che uso perché poi ci sarebbe vabbè che uso c'è sempre lo shiva il menu war uso anche l'icr se no come mitragliette uso tanto il vmp o il faro o il raso il back però ad esempio adesso non ce l'ho sbloccato perché ho voluto fare il prestigio e quindi vi ho voluto far vedere solo alcune classi comunque ragazzi queste qua erano le mie otto classi che diciamo uso frequentemente e se per caso volete vedere anche il resto delle classi che farò il video sopra il livello 45 46 in modo che riesco a sbloccarle quasi tutte basta che lasciate un commento e un mi piace per supportare questo video qui in modo che so se volete vedere gli altri tipi di classe e mi fa piacere anche a me in modo che possiate capire diciamo che classi vado a usare io perché so che alcuni se lo chiedono tipo che classi uso su black ops 3 perché non mi sembra di aver mai fatto un tipo di video così su sto gioco comunque ragazzi se vi è piaciuto questo breve video lasciate un bel mi piace un bel commentino e noi ci vediamo fra pochissimi giorni con il ruoto d'armatter su xr2 mi sembra bella ragazzi grazie 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 grazie